salve gente io sono nicknet come potete ben vedere stiamo aspettando l'inizio di minecraft live che inizierà tra due minuti 40 inizio adesso a fare l'intro intanto qua si vedono tante cose sono con earthquake e dottor malo per reagire al nuovo update anche se già abbiamo visto oltre a ste magie qua che si vedono adesso prima si è visto una roba con tutti gli update alla fine una coppa dell'end il che ci fa intuire a un end update speriamo sia così poi boh si spera eh vediamo vediamo adesso vedremo 30 secondi 30 secondi nessun italiano comunque non c'è stato nessun italiano qua all'inizio nel primo non va bene eh nessuno gli altri anni c'era qualcuno attenzione attenzione inizia vediamo vediamo voglio vedere tanti enderman c'è l'end niente si mangia tutti eh enderman attenzione c'è l'enderman c'è l'enderman no no adesso lo picchia no è andato via è sputato minecraft live enderman se n'è andato se n'è nascosto cos'è qua adesso grafic update no a peluche ma dove sono cosa c'era lì dietro enderman di nuovo zaino enderman c'è pieno di roba enderman no ho visto un creeper strano io anch'io l'ho visto cosa c'è lì dietro la marenna prossimi mesi già nuovo aggiornamento eccolo turutututututututututu cosa si vede lì come new zealand le cose del film ma come nova zelanda va bene lo faranno lì dopo questa perché non va bene a nueva zelanda No, in Nuova Zelanda Più in fretta così devo aspettare di più per le mod E quindi poi è un casino Niente, tutti i suoni magici di Minecraft Vabbè, eccola Eh, drops, sì Due? Tra i prossimi mesi due aggiornamenti Due mesi? No, non due mesi, due aggiornamenti Nuovo bioma E niente Va bene Bedrock Edition Hardcore Sai che roba Che poi perché non ce l'aveva ancora? Vabbè Perché è troppo buggata, non ti ricordi Eh, appunto, appunto È quello il problema Bandrock Hardcore, ho letto E niente, eh sì Bundles Ci piacciono? No Vediamo, vediamo Attenzione, attenzione Questo può essere molto utile per metterci gli strumenti, scudi, pozioni O le cose che occupano poco spazio comunque Cioè che non sono 64 No, perché quelli contano come una stack Tipo un piccone Sì E allora fa schifo Dai Sì Vabbè, ci metti le enderpearl E le pozioni Le enderpearl ce ne sono comunque 16 E non puoi mettere nient'altro? Sì Eh ma allora La cosa è i blocchi che vanno fino a 64 O qualsiasi item Eh ma sarebbe stato Tipo nei trovi tanti Sarebbe stato meglio con anche gli attrezzi Cioè se no vai di là No, è solo per la varietà degli item Questo, non per la quantità Ma io piuttosto se ho poca roba la butto Cioè non è che la tengo nel bando È perché sei ricco Eh Se vuoi tenerti tutto invece Vabbè comunque è meglio di niente Però Puoi colorarli adesso anche Eh lo so, lo so No E niente No Cos'è? No niente Villager News E niente No Ma perché si chiamano con un numero questi? I creaking Eh sarà lui Hanno detto che c'è un mostro Esplorano E niente La strega La strega dottor malo Better than the movie Eh veramente Ma perché c'aveva un quadro di Steve? Eh lasciamo stare il quadro di Steve Sono molto simpatici questi villager Creaking ha detto Creaking No Ma i villager non lasciano xp però No è finita Sono impanicati È andata Ma basta Se sono spaventati basta che spawno un Iron Golem Dai Eh si dovevano portare il ferro e la zucca Adesso lo spariscono ancora Beh non l'hanno visto E niente Non possono tornare Panico panico Ah è sparito proprio il cartografo Che bello Bello La mappa ha lasciato Noo E niente Ma non è che tipo li prende dall'alto Noo Se li mangia Ma guarda continua Dal nulla Magari stanno morendo per cause naturali Guarda ha lasciato la telecamera Troppato la telecamera E niente No è finita E poi c'è quella roba lì E niente TG villager C'hanno il portale del nether in casa E niente Cestino la lava Eccolo Cuscini TNT Ah ciua Vediamo cosa dicono sul film Cosa c'era lì? Una caverna C'era stile con una torcia Niente Guarda lì Tutti che scrivono L Guarda lì Guarda cosa fa Cos'è la giungla? Mushroom Ma Dentro un fungo sono Ma cos'è che c'è lì sul tavolo? Martello Famoso martello Martello di Minecraft Logico Beh in realtà Credo ci sia sulla cutting table Come Cioè quindi loro hanno La casa sul fungo Cose Candele Lampada aria che si è già visto Caverna Cosa fa? Qua io leggo solo L E niente Si vedono un bel po' di ambientazioni qui Eh il cubo il cubo Si stava attivando Stava facendo qualcosa Niente giocano Nuovo film Giocano a Minecraft e basta Sì Una scena Attenzione Eccoci Non so che armatura c'è lì E' una crafting table E' come funziona Ti serve il martello per farla funzionare Sì ma c'è un martello sul lato della crafting table Ma queste sono giuste Sì c'è un martello dal lato della crafting table Ah e quindi lui qua mette roba a caso e crea una magia No niente Ho capito Quindi se metti le cose in modo sbagliato Esce fuori una roba a caso Tipo quello Sì Ecco perché è uscito fuori quello Sono un po' piccoli L'hanno fatto tutto più piccolo Però Era meglio tenerlo normale forse Beh Mi ha provato a saltare un metro verticalmente Steve ce la fa tranquillamente Eh sì Quindi ha senso in teoria Bah Cosa fa con la zappa Spade in diamante Attenzione Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Sì un botto di roba Ma perché aveva 50.000 spade? E' come sulle bedworks quando compri Tutte le spade di pietra Poi le metti in cesta e quello è il risultato Noi cosa fanno? L'ape 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 gigante Pensava a vederla E niente ha rotto tutto Niente chi c'è lì dentro Ma? Non ho capito Tu entri nella stanza Ci stanno gli schermi Ma? Va bene Sei in una stanza e puoi giocare a Minecraft In quella stanza No No è bello quello Vabbè Va bene Niente i polli Eh Veloce veloce Vediamo Cos'è? Eccolo Foresta oscura Vabbè effettivamente villager Era in una foresta Ho visto una maggiore Paygarden Ah Sembra Dark Hook Anche peggio Tu scegli di notte Chi è che c'è? C'è l'uomo nero Il Kriking Cioè non gli bastava fare il Deep Dark come cosa spaventosa Ne dovevano mettere un altro Eh perché il Deep Dark è difficile a trovare Eh sì sì Mi fanno diventare horror Minecraft Bello bello ci piace Eh sì sì Sembra un po' bianco e nero Sì infatti Tutto desaturato Cos'è quello? Bene con le nuove Vines lì però Sono Moss Vine hanno detto Ah Moss Vine Bello Spero che possono cambiare colore però Boh Non credo Anche perché lì sono nell'otto bar ancora grigia Però comunque belle Ci posso stare magari niente in caverne Eccolo Ma che testolina aveva Ma cos'è quel robo lì? Niente Che occhi c'ha Ma è tutto storto Ma è veramente l'uomo nel... Ma? Ma? No è l'SCP 173 Ti mimetizza negli alberi Niente Guarda ma cosa fa? Ma? Ah c'ha tipo il cuore nell'albero Tutto storto Che bello però il design Vedi è come 173 Se lo guardi sta fermo Se non lo guardi si muove È finita Vedi? Io ho detto cuore Veramente c'è un blocco che si chiama il cuore del creaking Eccolo lì Distruggi il cuore e muore il creaking Ma sì Non ho capito se lo piazzi lo spawna no? Sì Sì Mi ha detto che puoi farlo spawna E spawna Dai tuoi amici Ti immagini tipo un tuo alleato E ti fai l'esercito Ma in giro piazzi i blocchi C'è l'esercito di creaking Vabbè non toglie tanto Infatti Toglie niente Ma cos'è sto remix del pigstep bellissimo? Pale hook Attenzione Grigio chiaro Un altro modo per texturizzare la stone Ma? Cosa fa? Si espande Niente A caso pigstep fortissimo E' in realtà E' arrivata a Snapshot Previews e betas Molto pronto Quindi Poi puoi provare Quanto presto No arriva E niente Ancora loro Sono scappati Incredibile Crunching Cosa fa? E niente Ha messo il cuore Monster Hunter Arriva Arriva Pam E niente Cioè Finito? Ma mica avevi detto che c'era Un altro di drop Boh forse quello Lo annunceranno più avanti Si Il primo era quello dei bundles E l'artcore In bedrock E questo è il secondo Ah era quello il primo Ok ho capito Adesso cosa succede qua Niente C'è la rana che balla Non è durato nulla E' un altro che giocano Al Al Cricking Lì Vediamo Chi è che gioca? Marco È italiano Allora per questo video Direi che è tutto Minecraft Live è finito Qua di sottofondo Stanno giocando Con un ragno Con un ragno in braccio Ma Vabbè A noi Questo aggiornamento qua Ci piace Ditemi la vostra Nei commenti Soprattutto il clicking Ci piace Vi ricordo come sempre Di iscrivervi al canale Giornate il nostro discord E Ci vediamo nel prossimo video Addio Ciao Ciao Ciao